Abbiamo un buon gruppo, un gruppo che crede, vediamo fra 48 ore abbiamo un altro. Una gran partita da parte dell'Orlandina, hanno fatto veramente una prestazione super e quindi un grande inizio per questi play-off. In bocca al lupo agli atleti di Capodorlando, che si facciano onore. E' una serie. Ok? Bravo! Bravo! Tres! Bravo!